Cochabamba! Cochabamba è questo puntino qui. Cosa c'è a Cochabamba? Innanzitutto le donne col taglio degli occhi più bello di tutta la Bolivia. A Cochabamba c'è lo stadio, c'è la piazza principale, Plaza de Armas, Plaza Colón che è molto carina, il monumento de las Americas, ci stanno grandi cose, è un museo anche di storia naturale che anche se lo stanno facendo piano piano, è carino, il Cristo della Concordia dove ci si arriva col teleferico, la laguna fa schifo, la laguna fa schifo e penso che da lì venga la grande quantità di zanzare che c'è a Cochabamba. Il terminale è il terminal più caotico che abbia mai visto e il che è qualcosa di spettacolare, avete visto anche dalle riprese e i mercati, i mercati di Cochabamba, i giganteschi, gli infiniti mercati di Cochabamba. Questo è Cochabamba, sì sì sì. Questo è Cochabamba, Cochabamba, Bamba, Bamba.